Musica Sapevamo già che saremmo andati incontro a queste giornate particolarmente intense Inutile chiederci se il clima è cambiato, questo lo sappiamo già da qualche anno Siamo noi che ancora non ci siamo adattati sufficientemente al cambiamento climatico Cerchiamo di migliorare la situazione senza né negazionismi né catastrofismi C'era uno che voleva in soluzione l'altro giorno il reato di negazionismo ambientale Poi in un dibattito televisivo Fratoianni, suo collega di Sventura, mi ha detto che era una fesseria infondata Io ho la forza del dubbio, che lo dico così, sinceramente Ma abbiamo un dovere, o io ho il dovere della carica che ricopro, o il dovere verso di voi Ho visto le polemiche sul reddito di cittadinanza Chi non può lavorare continuerà a essere aiutato Chi ha 30 anni, non ha disabili a casa, non ha problemi, non ha minori a carico Può lavorare e rifiuta di andare a lavorare È giusto che non venga più mantenuto a spese dei cittadini italiani Ma io dico che sono protestuose, le polemiche politiche sono da rispettare le proteste degli interessati Non abbiamo smantellato il sussidio alla vera povertà, la povertà assoluta Abbiamo stroncato quello che era diventato una fabbrica di falso, di truffa per miliardi di euro Come era andata fino ad oggi questa legislatura, così si conclude, davvero male Si conclude nella fase pre-estiva C'è aria di vacanza in Parlamento, ma anche di polemiche fuori dal suo perimetro Trenene ancora a banco la questione climatica dopo le lacrime del ministro Picchetto Fratin Ma è la sospensione del reddito di cittadinanza a infiammare oggi il dibattito Noi ripartiamo da qui per questo nuovo approfondimento del TG Plus Buonasera a tutti voi, buonasera al nostro opinionista Savino Balzano Buonasera Aurora, un caro saluto a tutti voi Benvenuta la nostra ospite, l'onorevole Eleonora Evi dell'Alleanza Verdi e Sinistra E coportavoce di Europa Verde, grazie per essere qui con noi Grazie a voi, buonasera Allora onorevole, parto da lei ma voglio poi sapere che ne pensa anche Savino Balzano L'onorevole Morlicone nel blog di Copertina dice che tutto questo clamore è un po' fuori luogo Perché le intenzioni del governo della maggioranza sul reddito di cittadinanza erano chiare fin da subito Già dal programma elettorale, cosa vuole rispondere? Che le intenzioni erano chiare per le forze di maggioranza ma gettano nella confusione più totale Le persone che fino ad oggi invece riuscivano ad avere un sostegno, una misura contro la povertà E che da un giorno all'altro si sono ritrovati e si ritrovano senza questo aiuto Ripeto, gettando quindi la totale confusione, nel caos Anche per i metodi con cui chiaramente sono stati informati attraverso un SMS Anche dal mio punto di vista di un cinismo e di una brutalità inaudita Dal momento che ha scatenato chiaramente anche molte perplessità ma anche in alcuni casi Una grandissima preoccupazione perché la confusione è data anche dalle parole utilizzate in quell'SMS L'eventuale presa in carico, che cosa significa? È normale che chiunque riceva questo SMS si domandi se può far parte di una categoria eventualmente di nuovo coperta Invece non è così perché il punto è che questo governo ha cancellato una misura senza dare un'alternativa E soprattutto per questo mese di agosto ci saranno persone che non avranno di che mettere insieme veramente il pranzo con la cena E lo vediamo anche dalle tante storie che iniziamo a leggere da madri con figli disabili Che da un giorno all'altro quindi rimarranno senza questo tipo di sostegno E poi anche quelle che sono state la grande discussione sui cosiddetti occupabili Ma anche qui abbiamo dal mio punto di vista una distorsione della realtà Perché se oggi una persona occupabile, anche una persona over 55, con titoli di studio, magari con una licenza elementare o un diploma È evidente che si fa fatica a poter ricollocare Ci sta dicendo che il concetto occupabile non corrisponde poi a quello che effettivamente offre il mercato Assolutamente, assolutamente, dal momento che anche giovani laureati faticano nel nostro paese a trovare lavoro Non osi immaginare appunto le difficoltà che altre persone che non hanno questi strumenti possano avere nel trovare appunto un'occupazione E da qui tutto quello che è stata fino ad oggi la grande critica su mettere insieme il mondo del lavoro con il mondo della formazione E trovare quindi un'occupazione alle persone chiaramente è un fronte su cui anche questo governo ad oggi nulla ha fatto E dunque ci troviamo veramente di fronte a una grande causa, una grande preoccupazione E dal mio punto di vista un gesto e un'azione vergognosa da parte di questo governo Che se la prende ancora una volta con i più fragili e i più deboli del paese In un momento in cui peraltro, e chiudo veramente, in un momento in cui peraltro la povertà aumenta Le diseguaglianze aumentano e sebbene vediamo un'inflazione leggermente diminuire Il carrello della spesa è sempre altissimo e tutto questo costa con la realtà delle cose L'inflazione pesa anche sulle vacanze per chi avrà il beneficio di farle Savino, tu che ne pensi di tutta questa discussione? È un problema di metodo? L'SMS che è arrivato a circa 169 mila beneficiari? O anche nel merito, come ci dice l'onorevole Evi? Ma per me è un problema di merito il fatto che in questo momento Noi abbiamo il clamore dell'entrata in vigore delle novità, delle misure che il governo ha pensato Per il reddito di cittadinanza, francamente non lo trovo sorprendente o sbalorditivo Nel senso che c'è stata tanta gente, non solo nella politica ma anche nel mondo dell'opinione Che ha criticato questa volontà del governo E ha denunciato a più riprese, guardate, quando arriverà fine luglio Quando l'ultimo assegno sarà staccato e si comunicherà a tutti questi percettori Che non percepiranno più questo strumento di lotta alla povertà Si potrebbero creare delle reazioni forti da parte di chi ovviamente Su quello strumento contava per poter vivere un'esistenza similmente dignitosa Mi verrebbe da dire, perché poi non era nemmeno uno strumento chissà quanto corposo Dal mio punto di vista andava anzi rafforzato e non indebolito come è stato fatto Io credo che il governo stia sbagliando Primo perché il reddito di cittadinanza per quanto strumento perfettibile In realtà era uno strumento di lotta alla povertà Male affatto al reddito di cittadinanza Chi ha provato a venderlo come strumento per trovare un lavoro alle persone Non era questo, era uno strumento di lotta alla povertà Però nasceva col doppio obiettivo Certo, hai ragione Difatti se fosse stato raccontato per quello che realmente era Probabilmente questo governo avrebbe fatto più fatica a disarticolare lo strumento Io credo che di fondo il tema della occupabilità sia sorretto dallo stigma nei confronti della disoccupazione Cioè tu sei disoccupato ed è colpa tua e dunque ti tolgo il sussidio Questa è una prospettiva che secondo me è palesemente sbagliata Il lavoro non c'è, spesso è un lavoro al limite della schiavitù in tantissime circostanze Quindi rimuovere in questa fase storica questo strumento per me è un errore madornale E dunque mi aspetto che le reazioni siano crescenti Dalla rabbia passiamo alle lacrime onorevole Quelle del Ministro per l'Ambiente Pichetto Fratin Che nel corso del Giffoni Film Fest Alla risposta alla domanda di una ragazza che racconta di soffrire ecoansia Cioè il Ministro, visibilmente commosso, prima dice, l'abbiamo visto, di avere la forza del dubbio Poi ha un dovere verso la carica che ricopre, verso i ragazzi che lo stanno ascoltando Voi l'avete criticato molto nei giorni scorsi il Ministro dell'Ambiente Ecco, in queste lacrime ci vede una volontà di intervenire seriamente come voi chiedete? Onestamente no purtroppo Io non credo a quelle lacrime, non credo alla sincerità di quelle lacrime Che ritengo anzi, insomma, chiamiamo le lacrime di coccodrillo Dal momento che quello che fino ad oggi questo governo ha fatto e continua a fare Non è certo affrontare la crisi climatica con le misure necessarie e urgenti che questa richiede E non solo, anche perché peraltro proprio notizia di questi giorni Vediamo come invece, ad esempio, dal PNRR vengano tolti miliardi di euro Che andavano proprio a progetti per contrastare il distesso idrogeologico Per l'efficientamento energetico, per rendere le nostre città più verdi Tutte misure e azioni urgentissime e necessarie che devono essere messe in campo Proprio per contrastare la crisi climatica E invece, appunto, continuiamo a vedere un modello fossile Che continua a essere perpetrato, portato avanti Soprattutto da questo governo che vuole, appunto, investire in nuovi gasdotti Ampliamento di centrali a gas Ecco, rigassificatori, ovviamente con la grande partita sui rigassificatori Quindi non è assolutamente un governo che sta cercando di affrontare la crisi climatica E anzi è ancora più grave il fatto che un ministro, un ministro della Repubblica Nel 2023, con tutta la mole di informazione scientifica che è presente Che è divulgata dalle più grandi agenzie e organismi scientifici internazionali Che dice che il riscaldamento globale è causato dall'uomo Ma quale forza del dubbio? Ma è mai possibile ancora instillare queste crepe nel consenso che c'è nella comunità scientifica? Perché io lo voglio dire in maniera chiara C'è consenso nella comunità scientifica? Perché fanno testo, fanno testo le pubblicazioni e le ricerche pubblicate Reviste dai pari, quindi con la peer review Questi sono i tasselli che vanno a creare la consensualità nel mondo scientifico Le dichiarazioni di singoli, beh, non è che fanno testo E soprattutto, peraltro, quando provengono da persone, da scienziati Che però non sono specializzati nella climatologia, nella scienza del clima E dunque creano chiaramente, dal mio punto di vista, una narrazione completamente distorta Quindi, ribadisco, per me è assolutamente incomprensibile come un ministro Possa ancora parlare di dubbio su questo fronte Perché questo dubbio, di fatto, serve solamente a rallentare l'azione per il clima A rallentare la transizione ecologica E quindi a non mettere in campo tutte quelle misure urgenti di cui abbiamo bisogno Non arriva, abbiamo pochissimi minuti Quindi voglio passare subito a un'altra questione Poi torno anche da Savino Balzano Sono davvero tanti i temi che dobbiamo affrontare nel corso di questa intervista Abbiamo parlato di maltempo Ma si legge, sembra ci sia burrasca anche all'interno stesso del vostro partito Politicamente parlando Cosa sta succedendo tra lei e Bonelli? Non c'è più tanta sintonia E poi anche la questione di Giuseppe Conte Il Movimento 5 Stelle che starebbe cercando una casa In vista delle prossime europee Ha trovato il veto da parte degli ecologisti italiani E così? Ma allora, nessuna burrasca Io la vedo invece in una maniera diversa Penso che sia la naturale dialettica che c'è all'interno di un corpo organizzato Come un partito politico Che si confronta e che deve in maniera quindi anche aperta e trasparente Affrontare determinate questioni Io ho fatto una proposta Una proposta di primarie aperte E spero che il mio portavoce Bonelli Potrà, come dire, approvare Potrà essere concorda nel proseguire su questa strada Che è una strada che vuole semplicemente aprire il nostro partito A tutte quelle forze ecologiste Tutte quelle energie del nostro paese Che guardano la difesa dei diritti e dell'ambiente Come loro priorità E che fino ad oggi magari non hanno trovato Non hanno trovato la loro casa in Europa Verde Ecco, io vorrei fare questo E quindi ho l'ambizione di far crescere Europa Verde Come un partito moderno Un partito che guarda all'Europa E alle esperienze positive del resto d'Europa Quindi questo, diciamo, è l'obiettivo E quindi nessuna burrasca Nessun maltempo Ma il naturale, normale e doveroso Anche scambio di opinioni Nella dialettica politica All'interno di un partito Con l'obiettivo che abbiamo tutti però Che è quello appunto di crescere Di far diventare più grande il nostro partito Europa Verde Sul Movimento 5 Stelle A livello europeo Da tempo, da molto tempo Il Movimento 5 Stelle cerca una casa Dato che fino ad oggi appunto Non l'ha trovata al Parlamento europeo Le porte della casa verde Ad oggi sono chiuse E rimangono chiuse Staremo a vedere se questa cosa Avrà un esito diverso Ma io ritengo onestamente Che E come dire Che su molti fronti Il Movimento 5 Stelle Non abbia mantenuto Diciamo fede e parola Sul impegno ecologisti Che aveva nei suoi inizi E dunque non credo che sia Come dire La casa migliore per i pentastellati Quella dei Verdi Savino tu che ne pensi? Rischiano l'isolamento E appunto di questo movimento All'interno dei Verdi Si parla di primari Ce l'ha detto l'onorevole Evi Ma io mi auguro Che questo dibattito All'interno del partito ci sia Perché è una forza Che si Come dire Che si riferisca I temi dell'ecologia Dell'amore per l'ambiente Soprattutto in un paese come l'Italia È importante Ed è preziosa che ci sia Io ritengo che Bonelli Lo dico in totale franchezza Non esprima Quella autorevolezza E quella credibilità Che servirebbe Ma uno che propone Il reatto di negazionismo climatico Secondo me Ha un profilo Diciamo così Che non è adatto Al ruolo del leader Questa è la mia Personalissima opinione Quindi mi auguro Questo dibattito continuo Per quanto riguarda Il Movimento 5 Stelle Io credo Che l'isolamento Per quel tipo di partito Non dovrebbe essere Un grande problema Ogni volta Che si è apparentato Ad esempio Col Partito Democratico Per il Movimento 5 Stelle È stata una catastrofe Quindi francamente Io farei attenzione All'amici Meglio soli Che mari accompagnati Onorevole Grazie per essere stata Qui con noi Eleonora Evi Alleanza Verdi e Sinistri E coportavoce Di Europa Verde Le auguro una buona serata Grazie Grazie a voi Altrettanto Buonasera Noi adesso entriamo Ancora di più Nel merito Della questione Del giorno Delle 169.000 Persone Beneficiare Del reddito di cittadinanza Che da venerdì Hanno ricevuto Questo sms Dell'Inps Dove si avverte Della sospensione Del sussidio Lorenzo Capezzoli Ranchi Una scelta caduta Come un fulmine a ciel sereno O quasi Per 169.000 Nuclei familiari E confermata Dall'Inps Attraverso Un sms Ebbene sì La fontana Del reddito di cittadinanza È in secca Una notizia Che è una sorpresa Per molti Eppure Ricorda il capogruppo Di Fratelli d'Italia Lucio Amalan La scelta del governo Risale alla fine del 2022 Quindi Era largamente previsto Che il rubinetto Del reddito di cittadinanza Si sarebbe chiuso Ad agosto Dopo gli ultimi Sette mesi Di prosecuzione E poi Misure alternative Ma non per tutti Dal reddito di inclusione Alla carta Dedicata a te Dall'assegno di incollocabilità Fino al supporto Per la formazione E il lavoro Ma Constringenti requisiti Per ognuna di queste misure E a montare Sensibilmente Più bassi Le opposizioni Insorgono Giuseppe Conte Parla di una battaglia Sulla pelle delle persone Cui l'Inps Dice in soldoni Arrangiatevi Mentre Alice Line Accusa il governo Di essere brutale Con persone Che hanno difficoltà A mettere insieme Il pranzo Con la cena La maggioranza Tuttavia Respinge le accuse Per bocca Del capogruppo Di Fratelli d'Italia La Camera Tommaso Foti Che definisce Ridicoli e strumentali Gli attacchi Di Conte E i suoi figliocci Eppure La bomba sociale Se non è già esplosa Con proteste e polemiche Rischia di deflagrare Con gesti Come quello registrato A Terrasini In provincia di Palermo Dove un sessantenne Che ha perso il sussidio Ha tentato di darsi fuoco Nelle stanze del comune Nel frattempo Anche una commissione Sul reddito O meglio Un'indagine parlamentare Per capire Se e quali errori Siano stati fatti Sul tema Nel mirino C'è l'ormai ex presidente Dell'Inps Pasquale Tridico Nominato nel corso Del conte 1 Sostituito pochi giorni fa Dal governo Meloni Bomba sociale E il rischio In molti furbetti Una triste realtà Su un totale di 169.000 famiglia A livello nazionale Ad esempio Sono circa 43.000 Quelle campane 22.000 Tra Napoli e provincia Che hanno ricevuto Il messaggio Che sospende il diritto Al sussidio A partire da agosto Eppure Sempre nella sola campagna Solo nel periodo Tra il giugno 2021 E ottobre 2022 In provincia di Napoli Sono state accertate Oltre 4.000 truffe E rintracciati Circa 15 milioni di euro Finiti Nelle tasche Di circa 660 furbetti Quando i pochi Minano Una misura Ad appannaggio Di moltissimi Ci colleghiamo adesso Con Edoardo Sorge Del movimento 7 novembre Effettivamente A tutti gli effetti In movimento Da un presidio All'altro Buonasera Edoardo Ci sente? No Non ce l'abbiamo Allora Savino Torno da te Nel frattempo Che riusciamo A stabilire La connessione Con il nostro ospite Perché appunto Oggi Le città Sono state Infiammate Dalle proteste Dei beneficiari Del reddito Cittadinanza Che hanno annunciato Ulteriori manifestazioni Ora Abbiamo già detto Prima Che il governo Aveva annunciato Da tempo Le intenzioni Sul reddito Di cittadinanza Però adesso Adesso è uscita Anche questa Novità Della presa In carico Da parte Dei servizi Sociali Del comune Secondo te C'è stato Anche un errore Di comunicazione Si parla da tempo Si parla da mesi Ma quello che effettivamente Sarebbe successo oggi A queste 669 mila persone Lo hanno scoperto Con un sms Sì Aurora Diciamo che Io non sono Molto appassionato Alla discussione Sui modi Gli andava detto In maniera più carina Gli andava detto In maniera meno carina Invece dell'sms Gli si poteva Convocare Fargli una carezzina Per poi dirgli Il problema Non è il modo In cui tu dici Alle persone Che gli togli il sussidio Il problema è Che gli togli il sussidio E questo è il problema Di fondo I sussidi Erano principalmente In campagna Tantissimi erano A Napoli Ma Savasandir Mi verrebbe da dire Cioè sono Parti del nostro territorio Caratterizzate Da una grande Densità Di popolazione Sono caratterizzate Da grande povertà Da grande difficoltà Da una disoccupazione Che è spaventosa E dunque Mi pare abbastanza Fisiologico Che i sussidi Fossero lì C'era qualche Fulbetto Savino perdonami Ma abbiamo ristabilito Il collegamento Ecco Per evitare Edoardo Sorge Del movimento 7 novembre Ora ci sente E penso che ci veda Anche bene Allora Dicevamo La comunicazione Con un sms Ma da tempo Si sapeva Quello che sarebbe Successo oggi Voi effettivamente Speravate in un cambio Di passo Del governo La decisione Del reddito Di cittadinanza Qual è il problema Oggi Salve a tutti Non speravamo Niente Di questo governo In realtà È un processo Di taglio A reddito Che viene anche Dal governo Precedente Già un protocollo Tra IMS E Ministero Di Grazie E giustizia Aveva decurtato L'erogazione Per una Buona fetta Dei percettori Di reddito Però Noi ci teniamo A dire una cosa Da subito Qua il dibattito Mainstream Divide Tra sostenitori Del reddito E persone Che vorrebbero Che questo reddito Venisse tagliato Quanto prima La realtà È che i disoccupati Che percepiscono Il reddito Quei disoccupati Quei lavoratori Fu riusciti Dal mercato Del lavoro Chiedono sostanzialmente Di poter campare Si è parlato Prima dei furbetti Ma si parla poco Dei furbetti Invece Delle casse integrazioni Durante il periodo Di covid O dei grandi evasori Fiscali È chiaro che Tutte le misure Necessitano di controllo Ma qui Siamo dinanzi Al fatto che Al sud Anche quella misura Del reddito Di cittadinanza Che era parziale Era diventato Uno strumento Per contrastare I salari da fame E per rendere Diciamo Liberi Le persone Di poter accettare Se o meno Fare un lavoro Che per lo più È sottopagato Sfruttato A nero Senza il rispetto Dei contratti collettivi Nazionali Qui al sud E in particolare A Napoli Quindi Come si diceva prima Concordo Con chi è intervenuto Prima di me Il problema Non è se La notizia è arrivata Con un sms O in un'altra Maniera Certo La forma è anche sostanza Questo significa Che c'è sostanza Sostanzialmente Una guerra Ai poveri Che però Sottolineo Non è avviene Solo con questo governo C'è una crisi in atto Da tempo Che viene fatta pagare Disoccupati e lavoratori Ed è chiaro Che si taglia il reddito Mentre si aumentano Le spese militari Per la guerra In Ucraina Mentre si aumentano I vitalizi E mentre sostanzialmente Si tengono ancora Bene Gli interessi Diciamo Di chi sta accumulando Profitti In questo paese Noi in queste ore Stiamo provando A costruire Iniziative ovunque Mercoledì Ci sarà una grande Manifestazione a Napoli Per provare A dare Percettori di reddito Quindi Non avete Intenzione Di fermarvi Con le proteste Ma io le chiedo Prima parlavamo Del doppio Obiettivo Con cui era nato Il reddito Cittadinanza Quindi Un sussidio Un supporto Alle persone in difficoltà Chi era in povertà Abbiamo visto Come in questo Effettivamente Ha funzionato Poi c'era la parte Dell'attivazione Nel mercato Del lavoro Che invece Ha avuto Qualche carenza Lei ci può dire Le chiedo anche Di essere rapido La sua esperienza Qual è stata In questi anni In questi anni Ci sono stati Pochi piani Per il lavoro Infatti I disoccupati I percettori Che sono in piazza Da anni Tramite il movimento Dei disoccupati Che rappresento Richiedono lavoro Stabile e sicuro Non chiedono il reddito E poi stare sul divano Come si dice Per esempio C'è una misura Quella dei gol 124 milioni di euro Solo alla regione Campania Per corsi di formazione Che purtroppo Vengono utilizzati Oggi come corsifici Per riempire Le tasche di enti Di formazione Agenzie per il lavoro Il lavoro c'è Il lavoro necessario Ci sarebbe C'è bisogno Di mettere in sicurezza I nostri territori Di fare la manutenzione Del verde Nei nostri quartieri Di potenziare La raccolta differenziata Porta a porta Di bonificare I nostri territori Spesso oggetto Di sversamenti Illeciti Di rifiuti Da parte di tante aziende Allora I percettori Si formino Ora Per l'inserimento Ad un lavoro Utile socialmente E fino a quando Non c'è un salario Ed un lavoro Si deve garantire Un reddito Con cui campare Per centinaia di migliaia Di persone In campania Ma in realtà Il sud E non solo Perché oramai La situazione Di disoccupazione Di espulsione Dal mercato Del lavoro Riguarda tutta l'Italia Credo che fosse questo Che voleva dire Edoardo Sorge L'abbiamo persa Edoardo La ringrazio comunque Se è in ascolto Per questo suo intervento Savino Vengo da te Per le conclusioni E anche i saluti Io sono assolutamente E' sempre Quello che penso Con la massima libertà Così come sono Abituato a fare Nella mia vita Quindi ringrazio te Ringrazio tutti i conduttori Che si sono Diciamo avventurati In questo percorso Insieme Non li cito Perché sicuramente Ne dimenticherei qualcuno Siete stati tutti fantastici Ringrazio i tecnici Ringrazio tutti coloro I quali hanno reso possibile Questo progetto Che ho sentito davvero mio Grazie a te Savino Per essere stato Un fratello Di noi conduttori Di questo TG Plus In questa casa Che è il Cusano Media Group Savino Balzano Lo trovate però Questa sera a Respubblica Con Massimiliano Morelli Io ti saluto Savino Grazie Aurora Un caro saluto a tutti voi E un caro saluto a tutti voi Anche da parte mia Ci vediamo domani Buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti